Paolo Righi, Presidente nazionale FIAIP, anzitutto a che punto è la battaglia della vostra federazione che rappresenta gli agenti immobiliari contro le banche che fanno agenzie immobiliari? Ecco, ha detto bene, contro le banche che fanno agenzie immobiliari, non contro le banche perché ripeto le banche sono l'asse portante della nostra economia e senza banche non si potrebbe vivere. Tra l'altro noi abbiamo accordi con una quantità spropositata di banche che non intendono fare le agenzie immobiliari. Continueremo la nostra battaglia non contro le agenzie immobiliari delle banche ma proprio contro le banche perché esse dispongono di dati sensibili dei clienti che potrebbero usare rovinando così tutto il mercato concorrenziale delle agenzie immobiliari. Un altro punto che hai trattato anche durante il suo intervento è l'ipotesi, l'idea che circola da vari anni di un'unica associazione che rappresenti gli agenti immobiliari. È un progetto fattibile? Ma intanto diciamo che c'è una consulta intero associativa che per accordo lavora solo sui temi che trovano tutte e tre le associazioni d'accordo quindi in alcuni temi lavoriamo uniti, in altri no. Noi abbiamo fatto questa proposta due anni fa, cioè di cercare di fare un tavolo di lavoro delle tre associazioni per cercare di avere una rappresentatività, però una rappresentatività che non deve essere mediata da altre associazioni e questa è un po' la difficoltà perché sia FIMA che ANAMA hanno grandi associazioni che hanno la rappresentatività come Commercio e Confesercenti a cui va tutto il nostro rispetto ma che rappresentano tantissime categorie quindi noi chiediamo un'unione di agenti immobiliari libera da altre rappresentanze quindi un'associazione unica degli agenti immobiliari per gli agenti immobiliari. Quali potrebbero essere gli ostacoli oggettivi, i veri ostacoli a questo progetto? Per noi nessuno perché nel momento in cui si rispondesse a questa nostra richiesta, a questa nostra desiderata si basterebbe organizzare un'assemblea di tutti gli associati, delle tre associazioni ad eleggere un board sarebbe molto molto semplice e lì vincerebbero le idee diciamo più rappresentative il problema serio e lo comprendo è che sia Confcommercio che Confesercenti sono dei buoni posti dove stare insomma cioè la rappresentanza c'è ma non specifica per gli agenti immobiliari io spero che questo si possa risolvere, con un po' di tempo ce la faremo. Allora lanciamo un appello ad Anama e a Fima che sono appunto le altre due insieme a Fialp che compongono poi l'universo associativo degli agenti immobiliari. Grazie Paolo Righi. Arrivederci.